Eccoci e bentornati sul mio canale! Me l'avete chiesto veramente in tantissimi quando sarebbe arrivato questo video di aggiornamento del canale Eccolo qui, oggi domenica 3 maggio vi faccio proprio un video dedicato alla nuova serie in arrivo la prossima settimana Come sapete il 5 di maggio uscirà un gioco che io attendo da un bel po' che è Wolf's Day in the Old Blood Praticamente io sul mio canale se non l'avete visto o se nel senso non ci avete fatto caso Diverso tempo fa avevo provato, avevo giocato Wolf's Day in New Order, il World Truck completo Dato che adesso esce questo nuovo titolo che praticamente è il prequel di Wolf's Day in New Order Che è formato da 8 capitoli per due storie collegate tra loro e vestiremo nuovamente i panni di Blazkowicz Potremo addirittura andare ad utilizzare nuove armi perché sono previsti ad esempio il capstone pistole, lancia granate E addirittura il fucile bolt action, quindi due armi devastanti E ci troveremo nuovamente a fermare con l'amico Blazkowicz l'avanzata dei nazisti Per chi ovviamente se lo fosse perso, prima di andare a vedere ovviamente questa nuova serie che inizia il 5 maggio Andate a vedere qualche video di Wolf's Day in New Order per farvi più che altro un'idea di che gioco andrò a giocare ovviamente il 5 Quindi dal 5 inizierò fino al completamento di tutta la storia questo walkthrough E poi a maggio arriverà ancora un'altra serie che ovviamente vi andrò a svelare nei prossimi giorni Fatemi sapere se voi lo andrete a prendere Wolf's Day in the Old Blood oppure no e più che altro se seguirete o meno la mia serie Spero che il video sia stato di vostro gradimento Se vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook E ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale